Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi, 6 marzo, martedì, vediamo quali sono, insomma, bocce ferme i risultati. Anzi no, i risultati non ci sono, perché ancora non si riescono ad attribuire martedì neanche fosse il Burundi, ma il Burundi io non lo conosco, neanche fosse una città dei bambini, non si riescono ancora a sapere l'attribuzione dei seggi nel dettaglio. Ci sono alcuni parlamentari che non sanno se sono parlamentari o non parlamentari, se si beccano questi 10.000 euro al mese o no. Questo è un sistema che fa schifo, fa schifo, e chi l'ha fatto fa schifo, perché l'unico vincitore di queste elezioni si chiama Rosatellum. Non l'attribuisco al signor Rosato questo problema, perché è stato un partito che l'ha votato, è stato un Parlamento che poi l'ha dovuto votare sulla fiducia, la fiducia gli ha dato anche Grascio che poi si è dimesso, poi è stato passato per le corti costituzionali, per le corti della minchia, per il Presidente della Repubblica nei confronti dei quali abbiamo sempre il massimo rispetto. Questo sistema elettorale è un sistema elettorale che ha dimostrato esattamente quello che tutti sapevano prima, quello che avevano scritto da Di Monte, quello che avevano scritto tutti i costituzionisti, che non l'avrebbe portato da nessuna parte. Faceva schifo l'Italicum ai grillini, a Forza Italia, a Compagnia Cantante, ma quello avrebbe dato una maggioranza. Questo sistema elettorale fa sì che non dia una maggioranza. Vi do qualche numero perché poi dopo vi prendono per il culo, ma non vi prendono per il culo, perché facciamo talmente male i giornali che non ci rendiamo conto di quello che è successo in termini numerici. Il centro-destra, tutta l'alleanza, ha fatto 2 milioni in più di voti rispetto al 2013. E' andato male un'aggregazione che ha preso 2 milioni in più nel 2013, con un signore di 80 anni e con un ragazzo di 40 che doveva essere indigeribile. 2 milioni in più, eppure non ha la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle, che era dato benissimo già nel 2013, aveva fatto un exploit, ha preso 1 milione e mezzo di voti in più rispetto alla 17esima legislatura. Chiaro? Vuol dire che ha preso 10,5 milioni di italiani, 12 milioni hanno votato il centro-destra. E non abbiamo una maggioranza grazie a questa legge incredibile. La legge è fatta dagli uomini, non dagli dèi. È fatta da un partito, il Partito Democratico, da un Presidente della Repubblica che l'ha votata, dai giornali che sono stati in silenzio, non tutti per la verità. Il PD è passato da 9 a 6 milioni, quindi abbiamo 6 milioni di sinistra, 10 milioni e mezzo di millennials di sinistra, cioè il Movimento 5 Stelle, e 12 milioni di millennials e conservatori di destra, che è il centro-destra. Allora, è mai possibile che non si possa avere un cazzo di governo con questa suddivisione? Non mi interessa chi, ma non è possibile. Cioè, viviamo? Perché oggi il sole 24 ore titola, i mercati reggono l'effetto voto? Ve lo dico subito. Perché i grandi giornali stranieri che chiamano il Parlamento italiano the Hank Parliament, il Parlamento in bilico, non sono affatto preoccupati di questa situazione, perché la mancanza di un governo in Italia vuol dire che un governo ci sarà, ed è quello dei numeri, dei contabili, dei burocrati, della BCE, è un governo non italiano. Cioè, siamo commissariati perché non abbiamo un governo. Gli immigrati verranno perché non c'è un governo. I conti li dovremo tenere in ordine perché non c'è un governo. I dazzi che non voglio, che non ci devono essere, ma non verranno mai neanche ribaditi in Europa perché non c'è un governo. Cioè, la mancanza di un governo non preoccupa i mercati finanziari. Oggi c'è un'intervistina a un consulente di Goldman Sachs. È evidente che non lo preoccupa, perché quello che preoccuperebbe è un movimento anti-establishment che governasse in questo paese. Ma i mercati hanno capito meglio di tutti quanti noi che non si governerà. E l'ingovernabilità vuol dire la governabilità da parte di qualcuno che non è in Italia. Cioè, quello che piace ai mercati. D'accordo? Quindi, banale, simple as that. L'altra questione che mi fa inviperire è che nei collegi nominali in Sicilia, su 28 collegi nominali, 19 alla Camera e 9 al Senato, hanno vinto in tutti i casi quelli del Movimento 5 Stelle. A novembre aveva vinto alla grande, invece, come vi ricordate, con tutta la polemica degli impresentabili fatta dal fatto, dal Movimento 5 Stelle e da tanti altri, vince il centro-destra. Allora, io mi chiedo e vi chiedo, ma secondo voi sono gli stessi mafiosi, gli stessi tangentari, gli stessi siciliani, diciamo, arruffoni che hanno votato il centro-destra e che poi ora sono andati a finire tutti quanti nel Movimento 5 Stelle? O invece, forse, bisognerebbe cercare di avere maggiore rispetto per la Sicilia, gli elettori e i siciliani, non attaccando loro un'etichetta? Sia che votano destra, sia che votano centro-sinistra. A me questa idea, o che votano i millennials 5 Stelle, a me l'idea di attribuire una mafiosità, una incapacità di ragionamento a quelli che non votano quello che pensa Marco Travaglio, secondo me è una cosa che mi fa schifo. Io prendo atto del voto, qualsiasi esso sia. Quindi la Sicilia è passata dalla destra al Movimento 5 Stelle. Punto, punto. Ah, ma le elezioni amministrative sono una cosa diversa dalle elezioni politiche. E allora che vuol dire? Volete dire che nelle elezioni amministrative i siciliani si fanno comprare, mentre invece nelle elezioni politiche non si fanno più comprare? Sono gli stessi che si fanno comprare? Ma, insomma, io la trovo una cosa incredibile, uno squadrismo, come va di moda di dire oggi, giornalistico. Vado avanti. Che cosa è successo? Parliamoci chiaro. Qua hanno vinto Salvini perché è diventato il leader del centrodestra e ha vinto Di Maio. Punto. Tutto il resto non conta. Certo, conta che ha perso Renzi. L'altra questione però è che i due hanno una caratteristica comune in questo momento dopo la vittoria. Tutti e due provano a fare il governo. Tutti e due sembrano forlani. Cioè, si sono istituzionalizzati. I toni della campagna elettorale sono finiti. Scordatevi. Meglio. No? Lo sapevamo? Ma sono finiti. Salvini e Di Maio sono diventati due forlani. Ieri ho sentito Di Maio, cioè l'uomo che rappresenta il partito che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta, che dice che ha grande fiducia nel Presidente della Repubblica per la sua sensibilità e correttezza istituzionale. Manco Forlani avrebbe detto una frase così banale, scontata e falsa. È ovvio che è falsa. Come deve essere falso il modo di fare politica quando uno vuole diventare Presidente del Consiglio senza avere sufficienti voti. Non sto dando un giudizio su nessuno, ma è la politica. È la politica per la quale ci hanno preso tutti per il culo fino ad oggi e da oggi in poi invece non cercheranno più di prenderci per il culo perché sono stati portati a casa i voti che gli servivano per diventare e per fare le loro rivoluzioni. Quella della flat tax se vince il centrodestra e quella del reddito di cittadinanza perché questo è in sintesi il concetto. Divertente Mattia Feltri oggi che fa vedere quante richieste su Google sono state fatte della parola reddito di cittadinanza dopo la vittoria del Movimento 5 Stelle. Una, come si dice, una linea che sale. Cioè tutti quanti a vedere non me danno il reddito di cittadinanza. Sarà un po' più complicato, ovviamente. Allora, ho detto che si sono istituzionalizzati. Seconda cosa, siccome non hanno preso il... non per colpa loro, ma per colpa di questa legge orrenda non hanno preso la maggioranza dei seggi vedrete che tutta quella polemica sui cambi di casacca, il vincolo di mandato obbligatorio, la possibilità delle transumanze, vedrete, ci rivedremo qua fra uno o due mesi, come ci giustificheranno che per il Movimento 5 Stelle, per esempio, qualche PD ha votato o qualche PD ha votato per il Movimento Salvini. Cioè, quello che era la rigidità della campagna elettorale, oggi non ci sarà più. Come è normale che sia. E semplicemente chi sente questa zuppa deve semplicemente capire come l'ipocrisia delle campagne elettorali è la massima ipocrisia. Dove però ci sono sempre dei grandi fondi di verità per capire la personalità dei politici. L'altra cosa che mi diverte moltissimo è come oggi tutti quanti i giornali, il virato di tutti i giornali, li ho letti veramente tutti, per cui l'ho fatto un po' tardi, con attenzione, è che i giornali oggi danno, che sono degli attenti annusatori di quello che avviene nei palazzi, non capiscono quello che avviene nelle strade, ma nei palazzi i giornali sono ancora un grande termometro per capire quello che avviene. Bene, i giornali oggi su che cosa puntano? Puntano sul fatto che il PD ormai allo sfacello, ma con un centinaio di deputati, non sappiamo quanti ne ha ancora, vi rendete conto? Il Burondi! Con un centinaio di deputati potrebbe essere la stampella con la quale fare un accordo con il Movimento 5 Stelle. Cioè oggi la tendenza è sinistra 5 Stelle, la tendenza di oggi, domani potrebbe cambiare, anche perché Salvini c'è una partita, come nota Verderami, oggi molto più importante, anche se non governa, la partita di Salvini è quella di diventare leader del centrodestra. La Lega per una vita è stata la numero 2 del centrodestra, adesso il centrodestra potrebbe essere attrazione Lega, quindi potrebbe perdere Palazzo Chigi, ma potrebbe guadagnare la leadership politica. Tanto che ieri ha fatto un gesto importantissimo, oggi notato da tutti i giornali, cioè Salvini ha preso le sue gambette e è andato ad arcore dal grande leader del centrodestra che però risulta perdente in termini elettorali. Fatto, dice, la minoranza di PD lo chiama, perché il fatto che il giornale Laus Organ, il Movimento 5 Stelle, non può pensare che sia come si chiama il Movimento 5 Stelle che chiama il PD, è il PD che chiama il Movimento 5 Stelle, perché sennò i fantastici ragazzi del Movimento 5 Stelle sarebbero, diciamo, un po' sputtanati se sono loro a chiamare, sarebbero degli inciuscisti. Quindi cosa succederà? Ve lo dico già, se il PD dovesse fare un accordo con 5 Stelle e dovesse nascere un golello di millennials e di conservatori di sinistra, il titolo del Movimento del fatto sarebbe che i mafiosi di ieri, cioè quelli del PD, per senso di responsabilità, danno una mano esterna al grande partito del rinnovamento. Vabbè, insomma, Movimento 5 Stelle, prove di governo, quindi in questa, mi sembra che oggi nel bookmaking, nel bookmaker, come bookmaker del governo, direi che il governo più vicino è quello del Movimento 5 Stelle con un pezzo della sinistra rispetto a quello della centrodestra con un pezzo della sinistra, perché là deve andare. O addirittura oggi in terza posizione, direi la più difficile di tutti, è una possibile alleanza tra Salvini e Movimento 5 Stelle a cui pochi credono. Si dimette Renzi e come sempre avviene in Italia, piazzale Loreto. Se tu perdi, piazzale Loreto. Ti mettono a testa in giù e ti sputano. Gli italiani fanno schifo quando fanno così. I giornalisti sono straordinari in questo. Fino a ieri dicevano che Renzi era il salvatore della patria, oggi non lo è più. Perché non lo è più? Perché si dimette dal partito democratico, ma si dimette a scadenza. Si sarebbe dovuto dimettere oggi secondo i giornali e secondo la minoranza del PD? E no! Perché Renzi oggi che cosa dice? Cari miei, io ho perso, mi dimetto, ho vinto le primarie, by the way, comunque non è lì perché ha fatto un colpo di partito, non è lì perché l'ha nominato chissà chi come per Salvini o l'ha nominato chissà chi come per Di Maio o l'ha nominato chissà chi come per Berlusconi. Quello si è fatto alle primarie e l'hanno votato. Va bene? L'hanno votato, ha perso, ha fatto una figura di merda e su questo ci sono pochi dubbi, ma dice mo' si fa l'opposizione. Ci avete tolto, ve lo dico io, quanti milioni di voti rispetto alle ultime elezioni amministrative. Scusate, il politico ha perso tre milioni di voti, il PD è passato da nove a sei milioni, ha straperso il minimo storico del PD, però una cosa dice mo' si fa l'opposizione e allora perché lo sfottete? Io non capisco perché lo sfottete, vuol fare l'opposizione, ci sta tutto. Nel frattempo è del tutto evidente che Franceschini, Orlando, tutta quanti i cacicchi del partito cercano di portarsi a casa una minestra facendo il 1 il Presidente della Camera, tant'è che oggi il vero accordo con il Movimento 5 Stelle è cercare di beccarsi qualche presidenza, qualche poltroncina parlamentare di pregio, Presidenza della Camera, Presidenza del Senato, grazie a Dio non vedremo più né Grasso né la Boldrini, grazie al cielo che gli italiani hanno sputtanato nella loro presunta diciamo forza elettorale, non valgono nulla, Bonino, Grasso e D'Alema, cioè questa gente qua non vale nulla elettoralmente, rappresentano solo se stessi, sono soltanto la Gruber, i Porro e Formigli e Floris che se li filano, anzi voglio dire, se posso dire non me li filo per niente perché sono personaggi tranne Grasso che non ho mai invitato, Grasso se non altro ha un passato del grande magistrato, va bene, detto questo tutti quanti quelli del PD stanno a fare l'accordo per cercare di andare a prendersi una poltroncina e poi vendere quel poco di consenso che ci hanno al partito del Movimento 5 Stelle. Straordinaria poi oggi se vi volete divertire chi ce l'ha fatta chi non ce l'ha fatta perché lì vedete le miserie umane e il fatto di come in realtà questi politici che hanno grande peso sui giornali tipo Franceschini, la Fedeli, la mia amica Pinotti perché la trova anche un ministro della difesa che ha ben fatto in realtà diventano per gli italiani pari a zero. Vi do appuntamento questa sera con il 105 Matrix condividete questa zuppa siete tanti a vederla oggi in diretta ma condividetela più che potete perché è l'unico mio spazio di libertà in un sistema in cui Piazzale Loreto vale per i politici vale per i giornalisti e vale per tutti quanti e sul sito nicolaporro.it tutto il resto delle informazioni come sempre ogni giorno online da parte di una piccola redazione che è quella mia e qualche amico che vuole scrivere e collaborare con me. Ciao!